E' il momento della festa, quello della vendemme, un rito antichissimo che rivive. Le cantine rimangono aperte la domenica, siamo in piena attività, appassionati, esperti e tantissimi curiosi. Nella terra del Vitigno, Nero di Troia, l'obiettivo, dicono, è far diventare la Puglia meta di un turismo del vino. Andria, tenuta del Conte Onofrio, Spagnoletti Zeuli. E' molto importante vedere che anche qui tutti quanti dovremmo fare squadra per valorizzare il nostro territorio, perché siamo in un territorio doc, dop, eccetera, di Cigia addirittura, eccetera, per cercare di sviluppare questo territorio e che la gente venga a visitarci e che sia sempre di più. E questo vuol dire consumare, vuol dire conoscere, vuol dire chiaramente far sì che la gente venga sempre più vicino e veda che cos'è l'agricoltura. Annata eccezionale, dicono i produttori. Ci spostiamo in un'altra provincia, Corato, azienda Torrevento. Aspetto all'anno scorso abbiamo ottenuto dell'uva di grande qualità, sia uve bianche che uve nere. Ora stiamo raccogliendo appunto l'uve nere, stiamo per incominciare a giorni il Nero di Troia, che ha raggiunto una maturazione ottimale in Campania, ora arriva qui in Cantina. Incomincia un percorso importante, un percorso che durerà qualche anno. I presupposti sono fantastici. Speriamo di ritrovare questa grande qualità in un vino importante tra qualche anno, che ci consenta veramente di conquistare e di continuare in questo percorso di crescita e virtuoso che la Puglia e soprattutto la zona di Cassa del Monte ha compiuto in questi anni. Grazie. Grazie. Grazie.